Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Tutto questo è perché vuole pagare 80 euro di Uber, capito? Ragazzi vi dico una cosa Qua 22.30 anche Petra Di sera o di mattina? Ma ti svegli se no? Ma certo Alla sera, alla sera Polina Le 22 sono il pomeriggio Comunque vi spiego la viaggiare un attimino su quello che sto facendo Perché purtroppo voi state andando sul percorso Disney Qua siamo sempre sul percorso Jordi Shore Sempre il peggio nel peggio Poi sono qua Ma come fa lecce? Francesca45 Francesca 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 ti giuro che se troppo bella sei la mia ragazza ideale Ma sei cringe porca broia davvero Vieni qua, vieni in campo, vieni in campo Gira nella tua posizione Ha potuto la corsa di là E no, perché sono in mezzo alla strada, non la vedo né di là né di là E perché Calma ragazzi Sì No, no, no No, 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 ci sta, ci sta No, 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 ci sta, ci sta Ci sta, ci sta, ci sta Prova, 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 prova Datici dei feedback, dateci dei feedback Ora Fateci sapere un attimino Questa per chi ha? Per lei? Però devi prendere le sedie, Marti Che cazzo hai detto? Devi prendere le sedie per lei Non chiamarmi mai più così, eh Guarda, se vuoi ne ho tantissime Questo Bliss Club, l'Aquila Hai fatto pure una data lì, tu Fammi Levami appena cambio, cioè mettimi appena cambio Questa bella, però Ho capito, devi fare le gag Aspetta che c'è anche Alexi che si è collegato direttamente da Milano Tutto bene Alexi, faccio un segno con la mano? Perfetto, Alexi sta bene ragazzi Tancanetti mi ha appena scritto e mi ha inviato la foto Ehi, Alexi, puoi cambiare il cappello però, eh Oh, strozzo, sto te caldo, eh Alexi Tre volte tu vi... Ma io voglio vedere un giorno che uno si presenta con la valigetta in contanti 15.000 euro e ti dice Fammi una segna Ah, io direi di sì E allora, che cazzo vuoi? C'è tu che ti dici no? Ma hai detto di sì? Ma pensate sia rincoglionito Ma che scherzando? Sembra un po' Giori Scotti stasera Grazie mille, grazie mille Ma stasera in discoteca? Eh Uno mi dice Ti offre una bottiglia? Mi dai un bacio a stampo? Gli do un pugno, porca tua No Che cavolo sei per me? Eh Che cavolo, tra l'altro Sei veramente cambiato Cavolo Cavolo Porca miseria, Alexi, hai cambiato Spingiamo il telefono per i suoi mani di qua Ho fatto roba peggiore per meno sordi Davvero Cioè? Come davvero? No dai Che cazzo hai fatto? No dai Giulietta Scherzo, scherzo Che scherzi? Cosa hai fatto? Cosa hai fatto per soldi te? Allora, facciamo Lo faresti per soldi Allora Eh bro, se parti Vai, dillo No, no Perché io sono molto estremo Eh, lo so Però ti dici Mezzo milione Per un milione faccio tutto Tutto Per un milione faresti tutto Cioè tipo Uccideresti tutto Ah ma mi sa che manca solo la tua frate Sì, sì Scusa Marty Riesce il servizio Ok Che fai? Mi tacchi? Oh Scherzi Vai bravo Vai bravo Ah, scusate Ti chiamo tanto in breve Arrivo subito Ma smetti di dire che sono diversa Ragazzi Puoi dire che sei cambiata? Ma perché? Non è vero Tu eri diversa E com'ero? Cioè te ve la ricordate come era Rebecca? Com'ero? Eh? Ve la ricordate come era Rebecca? Sembra grande Sembra grande Spiderman Bello Te? Sì 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 È sempre un piacere È sempre un piacere Che organizzi la live E poi da un momento all'altro Decidi di spaccare la live Da un momento all'altro Così Ci sta Ci sta Facciamo? No Vabbè Voi tu davvero Tu ho per momentare davvero Non sto scherzando Sì si vede un pochettino Mi bianca effettivamente Sì Si può bastare un po' Alex City Quello Un po' rosicci piccolino No Prendi pure una sedia Vale Quella Ovviamente Sì La mia è sempre un po' di storia Ah ma Camilla Malato sta a Dubai Che fa a Dubai? Eh? Fatto un cazzo ragazzi Eh no Chi può soddisfare chat? Boro? Ma perché Boro? Che ti ha fatto Boro? Cioè non è credibile Oddio Chi è che suona? Boro Boro? Ma hai cambiato qualcosa? No ma va Dici? No no Ci ha speso tipo 5k Nessuno se n'è accorto Ma no eh Me lo stai rendendo conto invece Ci sono un sacco di facce tue Ha ricambito tutto il muro Ha contrato qualcosa Cioè la gioconda Cioè la tv Ma quelli che fanno? Stanno giocando a carte Sono i miei bodyguard Che nel tempo libero Si fottano così Sono serio Quanto è uno stipendio medio Cioè No esatto Quanto è Il minimo che il tuo ragazzo Deve guadagnare? Tanto Tipo Cioè mi piacerebbe uno che guadagna tanto Però alla fine Se mi innamoro di uno povero va bene Ma se tu sali su una scala Ma quanto è tanto? È tanto? Aspetta Sì sì In Italia 5.000 euro al mese? No 200 euro Al mese? Sì È troppo in alto bro Deve hai detto rapido No vabbè ci sono Manco te 200.000 euro al mese Chiaramente è una fake news Siete due bellissime ragazze Ma riesco a fare anche meno di voi nella vita Ok Edit Infatti non siamo qua Infatti noi non siamo qua Perché ci vuole lui Altro edit Altro edit Ed è giusto così Ed è giusto così Qualsia volta a quest'ora Me ne rimango bella che a casa Esatto Siete dove vuoi Io non ho necessito di due Ok Vabbè perché insomma Siete Stai facendo impazzire Adesso niente dici Pensato di averti rubato il cuore alla pace Vai Così non fai Adesso posti di Chi c'è in stanza Che la vende in poi C'è la sua donna bro Lascia il passaggio segreto di Martino C'è la sua donna? C'è la sua donna? Martino C'è la mia donna? Ho detto Oh Famolo C'è la mia donna? Ma non te non più il cazzo Possessi di però Se chiami che ti sento Non ti scende il sesso off camera? No Dai come ha detto No Dai dai Come ha detto Rocco Sei un'infomere È così pari Ok Giusevo Allora io ho un nuovo gioco E si chiama Guess the body count Oh my god Bella Wow Yeah body count